Io sono la terza generazione della famiglia Campana, quindi mio nonno ha fondato l'azienda nel 1947. E 77 anni dopo il testimone c'è la Rita Campana, un lavoro d'architetto alle spalle e oggi guida la carrozzeria modenese fondata da Onorio ed Erasmo Campana e che ha lavorato con i grandi marchi dell'automobilismo italiano, ma soprattutto con Maserati, per arrivare alla chiamata della produzione del film Ferrari. Quindi abbiamo dovuto ricostruire appunto nove vetture, vetture cinematografiche, questo perché le vetture reali, quindi le Ferrari 335, 315, la Maserati 450 e la Ferrari 801 sono vetture che sono rarissime e hanno un valore veramente molto alto, quindi era impensabile poterle utilizzare per le riprese del film. Oltre al restauro di auto uniche, qui sono costuditi migliaia di ricambi Maserati, fra cui tachimetri, parti motore e di carrozzeria. La nostra azienda negli anni 90 ha acquistato il magazzino di ricambi originali sia di carrozzeria che di meccanica direttamente da Maserati.